Il Fondazione Comunista ha scoperto qualcosa che stava facendo alla chetichella, avete detto, il Presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa? Sì, è stato convocato dal Presidente Guerino Testa e dal Commissario regionale Cabuti per oggi pomeriggio alle 18, prima alle 15, poi è stato spostato l'orario, l'Assemblea dei Sindaci dell'Assi, che è l'ente che sostituisce l'ATO della provincia di Pescara, per deliberare il pieno d'ambito con l'aumento delle tariffe dell'acqua. Quell'aumento delle tariffe che noi avevamo sventato un anno fa. Voglio ricordare che nel frattempo questo regalo di Natale ai cittadini, già abbastanza stramazzati da Mario Monti, arriva ma in contrasto con il referendum, perché in realtà le tariffe dovrebbero diminuire, in quanto il referendum prevedeva l'eliminazione del 7%, la quota della bolletta, che poi sarebbe nei calcoli veri intorno al 12%, destinata alla rimunerazione del capitale. Questi invece di diminuire le tariffe, convocano nel giro di 48 ore un'assemblea per far trovare davanti al fatto compiuto, noi abbiamo scovato questa cosa, lanciamo l'allarme, invitiamo cittadini, movimenti, sindacati alla mobilitazione, oggi alle 17.30, davanti alla sede della provincia di Pescara, è uno scandalo che tra l'altro si riproponga allo stesso documento di un anno fa. documento che faceva ridere i polli perché la stessa analisi delle cose che servivano non corrisponde a studi, sono tutti progetti su progetti fatti dal partito dell'acqua negli anni, tanto paga Pantalone, Pantalone si è stufato. Perché è accaduto questo secondo voi? Perché ci sono delle situazioni, incrostazioni derivanti dal passato, rispetto alle quali non si vuole fare un risanamento, ma si vuole accollare i costi ai cittadini, questo è assolutamente intollerabile.